A Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto Ursula von der Leyen per il Compact with Africa, una conferenza sull'investimento del G20 nell'economia africana. Un vertice organizzato per incoraggiare i leader dell'Unione Europea e del G20 a fare investimenti privati nel continente più povero ma in più rapida crescita del mondo. Il governo tedesco si è impegnato a investire 4 miliardi di euro in Africa per progetti di energia verde fino al 2030, ma raggiungere la presenza economica della Cina in Africa sarà difficile. Al vertice di Berlino, oltre a 13 paesi africani, erano presenti anche il primo ministro olandese Mark Rutte e il presidente francese Emmanuel Macron. Grazie